Natale sotto le stelle 2018, Comune di Sava, assessorato al turismo e allo spettacolo. Il programma degli eventi dall'8 al 21 dicembre. 8 dicembre, allestimento albero di Natale artistico. Mercatino del dolce, del gelato e pettolata. Presentazione carte da gioco savesi. Mostra di presepi per obbisti. 9 dicembre, grande tombolata in famiglia. Mercatini natalizi dalle ore 9. Inaugurazione, nuovo mezzo, angeli di quartiere, corpo di tutela civile. 12 dicembre, stage con Katia Ricciarelli, Accademia della Moda Maria Antonietta Calò. 15 dicembre, cena solidale di Natale a favore di Teleton. Mercatini natalizi dalle ore 17. Notte d'arte, giornata dedicata all'arte in tutte le sue forme. Giornata dedicata all'informazione, talassemia e prevenzione. 16 dicembre, manifestazione di arti marziali. Mercatini natalizi dalle ore 9. Manifestazione sportiva Natale in Corsa 2018. Torneo di scacchi. Rappresentazione teatrale e musicale La Notte Santa. 19 dicembre, manifestazione di solidarietà. Note di solidarietà. Quarto concerto di Natale, Natale nel mondo. 20 dicembre, concerto di Natale The Twelve Days of Christmas. Concerto di Natale, andate per le strade del mondo. 21 dicembre, raccontiamo il Natale. Evento musicale con gli alunni. Musical natalizio Anfas Sava. Sava vi aspetta. Buone feste a tutti. Grazie a tutti.